fratello e sorella bianconeri salve a tutti e allora vogliamo parlare di var var e dare anche due consigli ad andrea pirlo ma prima veniamo alla alla questione var ragazzi allora puntualizziamo sia chiaro la juve cono senza ronaldo cono senza altri giocatori cono senza episodi arbitrarie eccetera la juve deve vincere col benevento questo è poco ma sicuro questo è tassativo però il nostro dovere a onor di cronaca è rimarcare l'ennesimo episodio nel quale il var non è intervenuto clamorosamente perché ragazzi se che sia benevento che sia real madrid che sia bayern di monaco se il rigore c'è bisogna assegnarlo quantomeno bisogna che il var intervenga su episodi clamorosi ebbene l'episodio di delitto ragazzi al novantunesimo ha ricordato molto l'episodio di gagliardini in inter real madrid dove anche lì il var clamorosamente non è intervenuto dobbiamo dirlo a onor di cronaca anche per i prescritti insomma c'è stata qualche magagna e ragazzi così non va quello di delitto ancora più clamoroso di quello di morata che si ci poteva stare ed è costata anche l'espulsione a morata per un arbitro per malosissimo perché morata non ha detto nessun figlio di puttana eccetera eccetera ha detto rigore imbarazzante è stato un rigore che non è assegnato imbarazzante il rosso è di un per maloso questo pasco lasciamo stare con pasco abbiamo altri precedenti ragazzi l'episodio di delitto come l'episodio di ramsi col verona oddio sono partite che hai fatto schifo tutto quello che vuoi però alla fine le potevi anche vincere se il var fosse giustamente intervenuto anche perché si è soliti anche in europa intervenire quando si vede la maglia allargata vistosamente si interviene perché lì sulla spinta non puoi capire l'intensità della spinta però sulla maglia allargata si c'è la tendenza intervenire perché si vede la vistosa la vistosa insomma il vistoso aggrapparsi a questa maglia e allora ragazzi così non va come è stato col verona e col benevento partite che hai fatto schifo quanto quanto hai voluto però le potevi anche vincere poi il rigore va anche trasformato ma il var deve intervenire ragazzi e c'è la tendenza a non intervenire non intervenire più intervenire col contagocce e soprattutto con la juve ragazzi e questa tendenza è pregosa noi già abbiamo i nostri problemi di nostro ma se certo il var ci volta le spalle non ci restituisce quello che è giusto e lì son cazzi ragazzi e non vorrei che ci sia ci sia un brutto vento una brutta atmosfera quest'anno per tante cose a parte i nostri problemi c'è una brutta atmosfera arbitrale ragazzi detto questo ragazzi mi permetto di dare due consigli a Pirlo innanzitutto come ho già ribadito altre volte questa è una squadra di giocatori del 90 per cento di questi giocatori sono nati per giocare di contropiede di ripartenza Pirlo deve accantonare un pochino la sua la sua idea ambiziosa di calcio di possesso palla di calcio dominato e ripeto è un'idea che a me piace come piaceva a me l'idea di dominio del calcio di Sarri a me piaceva a me non piacevano i modi di Sarri il modo di porsi nello spogliatoio di Sarri e i modi i modi di porsi nell'ambiente juve Sarri ogni volta che si muoveva pestava una merda parliamoci chiaro a me l'idea di calcio dei Guardiola di Sarri anche queste idee del neopatentato Pirlo mi piace l'idea di dominare però ci sono modi e modi ragazzi con questi giocatori non puoi fare il domino non puoi fare il possesso palla con un centrocampo così pietoso non puoi fare il possesso palla Pirlo deve capire che in squadra non ha a centrocampo 3 4 Andrea Pirlo a lui sembra che sono tutti come lui centrocampisti non sono come lui non sono rapidi di pensiero col tocco di palla di Andrea Pirlo lui è convinto di avere 3 4 Pirlo in squadra non ce li ha forse non ce li avrà più nessuno non ce li hai ai questi ai giocatori ai dei puledri da lasciare da lasciare correre negli spazi come chiesa coluseschi quadrato sfruttali come la Roma con la Lazio si con umiltà lì ci siamo messi in ripartenza soffrire e ripartire e là c'è mancato solo il gol del raddoppio più volte dovevamo essere solo un po' più cinici ma non è una vergogna giocare in ripartenza la storia della Juve dimostra che non è una vergogna la nostra storia è fatta di contropiede ragazzi bisogna anche adattarsi il Pirlo deve avere l'umiltà di capirlo se non può adottare quel tipo di calcio l'Inter del 2010 ha vinto il triplete col giocando di ripartenza e non noi noi abbiamo vinto l'ultima Champions giocando di ripartenza un calcio spettacolare con l'Ajax che faceva il 70-75% di possesso palla e noi in ripartenza abbiamo creato 10-12 palle gol in quella finale e ne abbiamo concretizzato solo una perché ce ne siamo mangiati 10-11 gol ci siamo mangiati ma quella Juve dominò quella partita e andò ai rigori solo per casualità però era un grande calcio di ripartenza si può fare quel tipo di calcio non è una vergogna Pirlo non è una vergogna poi mi permetto di darti il secondo consiglio una volta che succederà ancora che l'inzaghi di turno verrà nella tua area tecnica cosa di una maleducazione pazzesca e di totale mancanza di rispetto per il collega solo perché tuo amico ti permetti perché sai che non ti dirà niente ti permetti di andare dentro l'area tecnica della sua panchina per parlare con l'arbitro allora la prossima volta che l'inzaghi di turno verrà nella tua area tecnica per favore pirlo dagli una bella pizza qui e stendilo a terra anche questo dimostrerebbe che hai le palle pirlo esci le palle pirlo esci le palle fino alla fine